C'è grande frustrazione, grande delusione che sfocia anche un po' in una mezza arrabbiatura perché abbiamo fatto una grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista, grandissima partita dei ragazzi e mi dispiace veramente tanto che non abbiamo fatto i tre punti, non abbiamo vinto la partita che dovevamo vincere meritatamente, come è successo in altre partite, dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di togliere queste grandi ingenuità che facciamo ogni partita perché ci portano via i punti preziosi, abbiamo solo sei punti e dopo diventa tutto più complicato e non sempre si giocherà come oggi, bisogna darci secondo me una svegliata perché regalare cinque rigori su sei partite è grave, è una cosa molto grave e al di là che siamo una squadra giovane ma sono delle cose che ci dobbiamo assolutamente togliere il prima possibile. Adesso ci aspettano due settimane di sosta, se il campionato non inizia il 29 abbiamo, diamo il tempo anche al nuovo arrivato, libertarsi di trovare un po' di condizioni fisiche di aiutarsi in questo cammino, però sicuramente dobbiamo toglierci queste grandi ingenuità perché ci paga 5 saranno caro alla lunga. Grazie.